Allora con Young & Wild la gara sta andando bene, siamo nelle prime dieci posizioni o è una corrida standard come le altre volte? È una corrida standard ma magari è meglio questa modificazione Per le regole o per le kart? Per le kart Perfetto, allora le modifiche che sono state apportate ai kart sono state gradite Young & Wild in lotta per la posizione numero 5